Giorgia Wurt Giorgia Wurt è mamma di due gemelli, sono nati Leila e Lucas L'attesa è finita per Giorgia Wurt, l'attrice di Leite Rose Dieva è diventata mamma qualche giorno fa di due bellissimi gemellini, una femminucce e un maschietto cui ha dato il nome di Leila e Lucas A ottobre, l'interprete 38enne rivelava per la prima volta di essere incinta, ho le farfalle nella pancia Ed ecco che il 22 gennaio la Wurt ha dato alla luce le sue creature, le mie farfalle Leila e Lucas hanno spiccato il loro primo, rivoluzionario volo. Grazie di cuore a tutti per il vostro affetto, vado a cambiare i pannolini Mistero sull'identità del padre Dei due bimbi, la neomamma dapprime ha svelato solo una foto delle tenere manine In compenso, Giorgia Wurt non ha mai rivelato il nome del compagno in neopapà Ex fidanzata di Fausto Brizzi, l'attrice ha trovato il grande amore al fianco di un uomo che preferisce resti nel più fitto mistero Non parlo mai dei miei amori, sono sempre riservata sulla mia vita sentimentale e in questo caso oltretutto è pure una situazione delicata, aveva dichiarato qualche mese fa a oggi, senza ulteriori dettagli La foto dell'allattamento Poche ore fa, la tessa di Leite e Rose di Eva ha condiviso la prima foto intera dei due bebè Nell'immagine, mostra scherzando il momento dell'allattamento, non poco impegnativo, il ruolo che mi riesce meglio, la mucca svizzera Un bacio amici L'attrice è tra l'altro nata da papà elvetico e mamma ligure L'attrice è tra l'altro nata da papà